buongiorno buongiorno a tutti mi fa piacere ritrovarvi qui bentornati e bentornate in questo canale di simona cartobante ben ritrovati allora oggi che cosa succede siamo sempre diciamo così all'interno di uno dei video che caratterizzano questo canale e che io ho chiamato una carta alla volta ci siamo occupati fino ad ora delle sibille vi ho presentato alcuni dei miei mazzi di carte oggi invece cosa andiamo a fare oggi andiamo a dare un'occhiata a un mazzo di tarocchi allora questo posso dire con assoluta sicurezza che si tratta proprio del mio primo mazzo di tarocchi come vi dicevo io ero abbinata scusate ero abbonata diversi anni fa a questa rivista che si chiama appunto astra presumo sia ancora in commercio era una rivista che tratta astrologia e cose e cose di questo tipo attraverso questa rivista acquistai alcuni dei miei primi mazzi di sibille e tra questi mazzi acquistai anche il mio primo quindi questo è il mio primissimo mazzo di tarocchi allora vi faccio vedere subito vedete io all'inizio questi qui sono diciamo le carte degli arcani degli arcani maggiori queste diciamo così queste che potete notare sono molto più scure quindi sono usurate questo perché perché all'inizio non essendo molto pratica e dovendo appunto avvicinarmi approcciarmi per la prima volta al mondo dei tarocchi non facevo altro che utilizzare semplicemente e desclusivamente gli arcani gli arcani maggiori ora ovviamente non è più così però insomma ecco se anche voi dovete diciamo così acquistare il vostro primo mazzo di tarocchi potrei anche consigliarvi all'inizio di limitarvi ad usare quelli che sono gli arcani gli arcani gli arcani maggiori poi in un secondo tempo con calma attraverso uno studio più approfondito potrete potrete diciamo così avvalervi anche degli arcani minori che a mio parere sono assolutamente assolutamente indispensabili però insomma l'ho fatto anch'io ecco 30 anni fa quando mi avvicinai a questo mondo all'inizio mi limitavo appunto ad estreggiarmi con con gli arcani maggiori allora io ho diciamo così fatto ordine soltanto fra gli arcani maggiori ecco non sono andata a sistemare diciamo tutte le tutte le lame in ordine di semi e di numero per quanto riguarda gli arcani minori ecco quindi diciamo se diciamo che poi alla fine questo è un video è solamente appunto per farvi per per mostrarvi la tipologia di carte i disegni se può piacervi o meno la penna del dell'artista che le ha che le ha disegnate allora in questo caso abbiamo un retro color arancio un arancio diciamo molto molto bello molto vivo molto acceso ma cominciamo subito a a scoprirle allora abbiamo la prima carta degli arcani maggiori che è rappresentata da matto eccolo qua questi veramente i miei primi primi tarocchi quindi diciamo che gli arcani maggiori li ho usati li ho usati qualche qualche mese qualche anno poi sono passata ad altro ad altri altri tarocchi qui abbiamo il mago eccolo qua abbiamo la papessa vedete come sono sono abbastanza usurati non tantissimo perché poi diciamo ho fatto anche presto a passare ad altro però comunque li conservo perché sono piacevoli l'imperatrice e poi comunque sono un ricordo al quale sono anche molto 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 legata abbiamo l'imperatore abbiamo il papa papa poi abbiamo gli amati vedete anche qui abbiamo dei disegni che sono sono insomma piacevoli ecco gli amati poi abbiamo il carro molto bello questo devo dire molto affascinante questa immagine poi abbiamo la giustizia poi abbiamo la famosa carta dell'eremita poi abbiamo la ruota sarebbe la ruota la ruota la ruota della della fortuna poi abbiamo la forza molto bella anche questa a questa immagine come vedete sono delle delle piccole piccole opere opere d'arti poi abbiamo la carta dell'emperatrice poi abbiamo la carta dell'appeso eccola qui questa non vuol metterla a fuoco ecco la carta dell'appeso poi abbiamo la morte questa carta della morte la temperanza il diavolo poi abbiamo la torre sono abbastanza evocative anche queste devo dire non lo sono particolarmente perché poi insomma vedrete ci sono ci sono dei mazzi di di carte di tarocchi molto con delle illustrazioni molto più evocative per insomma diciamo che che si lasciano si lasciano guardare poi abbiamo la luna abbiamo il sole il giudizio il mondo vedete sono delle immagini che proprio non sono particolarmente io non le associo in maniera particolare alla carta del mondo però insomma va bene e ecco qui che cominciamo con quelli che sono gli arcani gli arcani gli arcani minori allora qui vado vado un momentino un momentino veloce ecco perché le carte naturalmente sono sono parecchie quello che voglio fare alla fine diciamo è farvi un breve un breve escursus di quelle che sono di quelle che sono queste queste carte ecco come vi dicevo prima le ho usate anche queste queste sono proprio in questo caso si tratta proprio del mio primo primissimo mazzo di tarocchi perché come vi ho già spiegato in altri video io per prima mi sono avvicinata a questo mondo a piccoli passi e comunque mi sono avvicinata prima di tutto alle alle sibille che come ho già spiegato in altri video non non è che io le reputi minori rispetto rispetto ai tarocchi o ne abbia meno 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 stima ecco assolutamente io per anni ho usato solo ed esclusivamente le sibille e le sibille nella loro tra virgolette semplicità mi hanno dato delle diciamo delle soddisfazioni veramente veramente notevole insomma ecco per cui per cui niente assolutamente da dire sulle sibille però come dico sempre e come dico spesso diciamo così che prima di avvicinarsi ai tarocchi io mi avvicinerei se fossi in voi al mondo al mondo delle sibille ecco le sibille sono più chiacchierine le sibille sono che che se ne dica un pochettino più semplici da leggere se confrontate ai tarocchi e ci sono delle carte che sono veramente molto molto belle con dei disegni molto evocativi e con delle scritte anche molto chiare che facilitano proprio le persone che si approcciano per la prima volta a questo mondo o comunque che vogliono magari avere il loro primo mazzo di carte magari per per farle a se stesse per farle non so ai familiari ai parenti agli amici o chi che sia io trovo che che le sibille siano più diciamo così più adatte poi è chiaro che se volete cominciare con i tarocchi nessuno nessuno lo vieta e ci mancherebbe altro se sentite una spinta una forte spinta verso i tarocchi non c'è non c'è assolutamente nessun problema però le sibille io le consiglio molto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo a questo mondo per prendere un pochettino di confidenza anche con le carte con le stesure con le interpretazioni e tutto quanto allora eccoci qua quindi oggi vi ho presentato il mio primo questo veramente è il mio primo mazzo di di tarocchi che ormai diciamo da svariati anni da svariati anni non uso più però lo conservo con con piacere perché insomma è un ricordo un ricordo importante anche per oggi quindi amici e amiche abbiamo terminato io vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like iscrivetevi se vi piacciono questo questo genere se vi piace questo genere questa tipologia di video e non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo video ciao